benvenuti in questo nuovo video un altro video di sessione fatta sempre il 9 dicembre durante la diretta il video di oggi è per simona un attimo che apro software ok andiamo schermo intero andiamo ci sono tante risposte ma ci sono risposte importanti diciamo perché sono da capire ecco poi vedremo con simona un po il tutto allora poi simona vorrei sapere se maria luisa è con la sua mamma olivia che è mia nonna allora simona chiede maria luisa è con la sua mamma olivia che sarebbe la sua nonna allora dice sei venuta qui luce quindi simona tu hai fatto un viaggio astrale magari non ti ricordi perché anche a me capita tu sei andata su e sei andato in luce in luce e insomma però una delle due hai visto ma non ho capito chi ecco insomma risentiamo e dice quando zia nana penso che sia uno mignolo sono un po rinco stamattina vabbè qua dice ogni mese uno sfragio non so bene a che cosa si riferisce ma c'è qualcosa che si ripete ogni mese ed è pesante non so simona cos'è dovresti saperlo tu va bene andiamo avanti e dice che non va c'è qualcosa che non va c'è ogni mese uno sfragio e non va non mi sembra che stia bene insomma ecco dice vota zio nel senso bo ci parli con tuo zio perché qua secondo me è una richiesta di diciamo comunicazione con tuo zio o qualcosa di questo genere insomma poi saprai tu nel senso quali sono i rapporti che avete tra tra di voi però mi dice damo dolori cioè a me sembra che non sta bene insomma ecco la sera te passa da te qua mi fa capire andiamo sul mio faccione insomma un una veloce veloce metafonia ha detto solo questo nel nel mentre insomma non mi sembra che sta bene o bo non lo so sono un po confuso su questa questa interazione che ho avuto non so vedi tu simona ma che cosa sta dicendo perché comunque non mi sembra che stia molto bene insomma ecco niente anche oggi sotto i 10 minuti anzi 5 minuti di registrazione così le sessioni sono molto più veloci va bene dai al prossimo video ciao allora poi simona vorrei sapere se maria luisa è con la sua mamma olivia che è mia nonna allora simona chiede maria luisa è con la sua mamma olivia che sarebbe la sua nonna la sua mamma olivia che sarebbe la sua nonna